Per prima cosa spunto tre zucchine, lavate e asciugate per bene, taglio a fette utilizzando la mandolina, taglio nel senso della lunghezza per uno spessore di circa 3 mm. Lascio grigliare da entrambi i lati per pochi minuti. Trasferisco man mano sul piatto da portata e lascio raffreddare. Procedo fino al termine di tutte le fette di zucchine. Adagio una fettina di zucchina grigliata sul tagliere, quindi spalmo sopra uno strato uniforme di formaggio fresco spalmabile tipo Philadelphia, poi posiziono delle fettine di salmone affumicato. Termino con della rucola fresca a sentimento. Arrotolo bene il tutto e sistemo man mano sul piatto da portata. Termino decorando con le lamelle di mandorla. Ed ecco a voi miei carissimi amici gli involtini di zucchine grigliate. Sono un'idea sana e divertente per preparare un piatto leggero e saporito. Una ricetta veloce da preparare anche all'ultimo secondo. Perfetti come invitanti stuzzichini per un aperitivo improvvisato. O come piccoli bocconcini per un finger food. Ragazzi, prima di salutarvi voglio ricordarvi di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati sulle mie ultime ricette. Attivate anche la campanellina. Grazie a tutti.